Cari amici, voglio oggi ricordare il mese di gennaio del 1547 che fu tragico per la Serenissima Repubblica di Genova. Nello scontro per la conquista della grande città marinara che era in atto tra la Spagna di Carlo V e la Francia di Francesco I, furono coinvolti il filo spagnolo Andrea Doria e Gianluigi Fieschi, alleato alla Corona di Francia. In pochi giorni la famiglia di Fieschi perse i propri feudi, parte dei propri componenti e Andrea Doria perse il nipote prediletto. Andrea da una ventina di anni aveva cambiato alleato, mettendo la flotta e il capitale genovese al servizio delle di Spagna. Aveva cacciato i francesi dalla città, stimolato l'approvazione di una nuova costituzione che trasformava il comune in repubblica aristocratica sotto la guida del doge nominato per due anni e stabiliva anche che al governo potessero andare soltanto gli iscritti all'albergo dei nobili. Andrea Doria non volle incarichi istituzionali ma rimase sino alla morte che avvenne a 94 anni nel 1560 rimase al centro della vita politica della Repubblica. Destinato a succedere ad Andrea era Giannettino Doria, figlio di un cugino di primo grado di Andrea che era stato protagonista di imprese militari come ad esempio la cattura del corsaro Dragut. Gianluigi Fieschi era nato nel 1522 dalla nobile famiglia Ramo dei Conti di Lavagna. Già nel XII secolo i Fieschi erano stati investiti dall'impero dei feudi che possedevano per diritto ereditario e dal secolo successivo cominciarono ad assumere potere in Genova dove erano stati accolti tra le famiglie nobili utilizzando le ricchezze che avevano accumulato attraverso la propria attività mercantile. Nel XIII secolo l'importanza della famiglia era stata espressa da due papi Innocenzo IV e Adriano VI. Gianluigi che nel 1543 si era sposato con Eleonora Cibo convinto dell'appoggio della Francia e del Papa pensò di potersi affrancare dal predominio dei Doria e della Spagna e organizzò la congiura con i propri fratelli e con gli uomini dei propri feudi. Si è anche sostenuto che uno dei motivi che portò alla congiura fosse legato ai tentativi di seduzione messi in atto da Giannettino nei confronti di Eleonora. Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 1547 i congiurati occuparono i principali punti e le porte anche della città. Giannettino svegliato dai rumori degli scontri si avventurò senza scorta verso la porta di San Tommaso e fu ucciso dai rivoltosi. Andrea invece con i familiari riuscì a fuggire si rifugiò a Masone ospite degli Spinola mentre Gianluigi nel tentativo di occupare la flotta e nel tentativo di raggiungere le galee che erano ancorate nel porto cadde nella darsena e affogò in pochi metri d'acqua trascinato sul fondo dalla sua pesante armatura. Secondo alcuni resoconti Gianluigi potrebbe essere stato colpito anche da una archibugiata. Con la morte del capo i suoi seguaci si dietro alla fuga ponendo fine alla congiura. Mentre il fratello di Gianluigi Gerolamo otteneva dal senato il perdono se fosse uscito dalla città e avesse licenziato i suoi uomini in effetti lasciò Genova e si rifugiò con circa 200 uomini nel castello di Montoggio. I fratelli Ottoboni e Cornelio invece si imbarcarono per raggiungere Marsiglia dove furono poi raggiunti dall'altro fratello Scipione. Il vincitore fu spietato coi vinti. Andrea Doria rientrato in città il 5 gennaio fece riunire il senato e lo costrinse a revocare il provvedimento di impunità nei confronti di Gerolamo. Il corpo di Gianluigi ripescato dal mare fu lasciato in un angolo della darsena per due mesi a decomporsi e poi fu rigettato in mare. Intanto verso giugno nella prima metà di giugno il castello di Montoggio cadde nelle mani delle truppe genovesi guidate da Agostino Spinola e questo per il tradimento di alcune truppe mercenarie e Gerolamo con alcuni altri capi della congiura fu giustiziato dopo un sommario processo. Qualche anno dopo anche Ottoboni catturato in un'impresa militare dagli spagnoli fu consegnato ai genovesi e Andrea Doria lo fece gettare in mare legato in un sacco. Intanto i possedimenti dalla famiglia dei Fieschi furono divisi tra Genova che prese Montoggio, Varese, Neirone e Roccatagliata, Idoria, Toriglia, Santo Stefano Daveto, Ilandi e poi Farnese e Valditaro e Pontremoli invece fu assegnata ai milanesi. Il bando contro i Fieschi e i loro complici fu emesso il 12 febbraio del 1547. Con quest'atto gli autori complici consapevoli erano condannati quali ribelli, traditori e nemici della Repubblica di Genova. Le pene consistessero appunto nel bando dei colpevoli nella confisca dei loro beni. Varese si arresa Capitano Battista del Caro inviato dalla Repubblica che prese possesso del castello il 21 gennaio del 1547. Lo storico Antonio Cesena fu incaricato dai varesini di trattare la resa e mitigare la vendetta dei genovesi. La figura appunto di un varesino, Vincenzo Calcagno, emerge tra le altre coinvolte nella congiura. Lo stesso Cesena lo descrive come calcagnino e lo definisce cameriere e favorito di Gianluigi. Uno scritto del XVII secolo lo raffigura quale servitore appassionato della casa dei Fieschi, di animo assai timido e anche stimato per le buone qualità. Gianluigi Fieschi, che non tollerava più il governo della Repubblica, lo aveva interpellato per conoscerne il parere. Il calcagno o calcagnino aveva cercato di dissuadere il conte dal progetto di congiura, lo aveva invitato a moderare l'ambizione, ad abbracciare il suo consiglio per prudenza e per generosità. Consiglio che era più utile, sicuramente meno pericoloso, più onorevole. Il Varesino si era chiesto quale dolcezza avrebbe trovato il Fieschi dalle immagini funeste della rovina della patria, cosa avrebbe fatto nel mezzo di una città desolata che lo avrebbe guardato più come un nuovo tiranno piuttosto che come un liberatore. Il conte era rimasto commosso da queste parole, aveva ascoltato però purtroppo il consiglio di Giovan Battista Verrina che lo aveva convinto invece del contrario. Nella notte della congiura Vincenzo Calcagno, fedele al suo padrone, partecipò agli scontri presso la porta di Santo Maso dove era stato ucciso appunto Giannettino Doria. Poi dopo la morte di Gianluigi, la sconfitta dei congiurati, Calcagno si rifugiò con Gerolamo Fieschi nel castello di Montoggio che fu stretto d'assedio su ordine di Andrea Doria. Vincenzo Calcagno fu classificato tra i ribelli, i nemici della Repubblica, fu preso prigioniero alla caduta del castello di Montoggio e assieme al Verrina fu interrogato sulle origini del complotto, sui partecipanti, sui fornitori del denaro, delle munizioni e sugli altri particolari della congiura. Ma fu scritto che, fedele esecutore degli ordini di Andrea Doria, lo spinola faceva scannare Vincenzo Calcagno dei suoi soldati corsi e così alcuni altri assieme ad altri partigiani del conte. Il Cesena ricordò poi la sorte dei tre fratelli del Calcagnino uccisi dopo la congiura. Uno era il castellano Geronimo di Tolmoresco, assassinato da due abitanti di Compiano, l'arciprete Pietro Antonio ucciso in Corsica e Costantino ucciso a Parna. Termino ricordando come la figura di Gianluigi Fieschi fu oggetto di un gran numero di scritti, incentrati proprio sulla fallita congiura. Lo stesso storico Antonio Cesena parlò con un malcelato rammarico della rovina che definì cruda e repentina dell'eccelsa casa dei Fieschi. La sua relazione sull'origine e successi della terra di Varese fu stilata undici anni dopo la congiura. Infine voglio citare la tragedia teatrale di Friedrich Schiller, la congiura del Fiesco a Genova, che mise in risalto la ribellione di Gianluigi contro il tiranno Giannettino. E questo in nome della libertà repubblicana, ma mise in risalto anche l'ansia di potere che aveva governato all'azione dello stesso Gianluigi. Un caro saluto e arrivederci al prossimo incontro.